E' stato aggredito da otto persone ed obbligato ad affiliarsi al loro clan, la Supreme Eye Confraternity, uno dei gruppi più pericolosi e violenti della mafia nigeriana. Un ex affiliato ha deciso di raccontare i segreti più profondi della banda, partendo proprio dalla cruda modalità del rito di affiliazione. Sono stato avvicinato dai membri della Supreme Eye Confraternity circa due anni fa. Già a quel tempo ero a conoscenza dell'esistenza della banda, molti lo erano. Si muoveva nell'ombra, non era chiaro chi ne facesse parte, anche perché una delle prime regole sta proprio nella sua segretezza, che deve essere assicurata. Forse crederete che entrare a far parte di una banda sia una libera scelta, ma non è sempre così, come nel mio caso. Sono venuti a cercarmi, ma all'inizio ho rifiutato di entrare a far parte del gruppo. Mi è stato detto allora che se non lo avessi fatto mi sarebbe successo qualcosa, che ovunque fossi andato non sarei mai stato al sicuro, né io né la mia famiglia. Mi hanno costretto quindi a salire su un'auto, continuando ad intimorirmi, mostrandomi le armi in loro possesso. Arrivati a destinazione mi hanno ordinato di scendere o mi avrebbero tagliato la testa, e così ho fatto. Mi hanno portato in una specie di buio scantinato, dove mi hanno strappato la camicia, mi hanno tolto le scarpe e mi hanno buttato a terra. Hanno iniziato tutti e otto a picchiarmi con calci, pugni e bastoni. È cominciato così il rito di affiliazione. Hanno strofinato sulla mia testa e sui miei occhi del peperoncino e hanno ferito il mio corpo con un rasoio. Il peperoncino fa lacrimare l'occhio, così loro possono raccogliere le lacrime, che vengono unite con il sangue delle ferite. Lacrime e sangue vengono poi mescolati a loro volta con alcol, riso e tapioca. A quel punto mi hanno detto che ero rugged, che ero un membro, e mi hanno sollevato per farmi recitare il giuramento finale. Giuro di sostenere Aie Confraternita moralmente, spiritualmente, finanziariamente e in qualsiasi altro modo. Se non lo farò, che un avvoltoio spietato mi strappi gli occhi. Da oggi giuro di sostenere questa confraternita con tutto il mio cuore, con fiducia, convinzione e fratellanza. Infine, a ogni nuovo affiliato viene detto quanto deve pagare ogni mese al capo e diventa schiavo di tutti i componenti, in quanto ultimo arrivato. Sono stato schiavo per circa 6-7 mesi. Da quel momento, come potrete immaginare, nulla fu più come prima.